C'è qualcun altro? Vados? Sei detto una del terzo? In diretta dal Mezzavia Stadium Di Mezzavia Scendi in campo il Mezzavia Football Club Ale vai Te cominci i reparti In porta Difesa a tre Imini, Imini, Imini Centrocampo composto da Imini, 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 Imini Trequartita Imini Attenzione qui c'è la sorpresa Imini, Imini Mister Imini Di Mezzavia naturalmente A disposizione di Mezzavia Periferia Imini, Imini, Imini Quarto uomo, Imini La partita non è truccata Ve la assicuriamo Non ci sono parentele La partita è anche commissario tecnico Imini Insieme ad 80.000 persone Ovviamente della casata Imini Tutti duchi Imini 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 Stanno prendendo il più A livello di paura Chi cazzo Guarda Figli e bottano Bottanazza Ciao Poi anche spendere La partita appartiene al trofeo Imini Che si disputa ogni anno A mezza via In cui giochi solo se ti chiami Imini Se non sei Imini Non sei nessuno Ora ti raggiungi C'è il brogio Vai Poi anche spendere C'è il broccato 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 Ci stas' C'è il broccato C'è il broccato